6.000 metri quadrati di superficie espositiva per 150 espositori provenienti da 12 regioni italiane. Sono i numeri di Italia Table, la rassegna francese sul meglio della gastronomia del nostro paese, organizzata dalla Camera di Commercio italiana a Nizza. Una sfilata di prodotti tipici e delle eccellenze delle nostre specialità alimentari per sostenere la nostra creatività all'estero. Ma quanto è importante proteggere questo valore? Agostino Pesce, direttore della Camera di Commercio italiana di Nizza. È fondamentale, ma direi, la creatività, dove noi italiani ne abbiamo tantissima, è l'organizzazione quello che conta, quindi la formazione, l'informazione da parte di enti come i nostri, Camere di Commercio in Italia, associazioni, Camere di Commercio italiana all'estero, la capacità di presentarsi sui mercati esteri. Questa manifestazione è una prova per le piccole imprese, 94% delle nostre aziende hanno meno di 10 dipendenti, 97% meno di 100 dipendenti. Non bisogna dimenticare che le nostre piccole imprese vanno aiutate e accompagnate nei paesi vicino. Secondo Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, è fondamentale lo svolgersi di rassegne come Italia Table per sostenere le attività delle nostre PMI del settore agroalimentare. Le PMI italiane che possono sfidare il mercato globale, il mar aperto, sono centinaia di migliaia e hanno bisogno proprio di trovare in queste manifestazioni il momento, lo strumento, grazie alle Camere di Commercio italiane, italiane all'estero, per potersi affacciare per la prima volta in un mercato che non possono che conquistare.